Il mio lavoro è lavorare con la bellezza. Quando faccio qualche cosa penso sempre a come sarà affascinante, come sarà bella. Il Made in Italy è qualcosa di immortale, la nuova collezione è basata sul futuro, sulla qualità, non sulla nostalgia. Il punto di arrivo è fare qualcosa che vede a quello che verrà, non a quello che è stato. I materiali sono canva, sono molti insieme. I tessuti del futuro è come tu li metti e come vengono insieme, l'armonia che crea l'insieme di diversi materiali e l'accostamento che fa. Quando metti un abito che ti senti a tuo agio, sei di un umore diverso. Uno compra un vestito non per coprirsi, ma per se stesso e per gli altri per stare meglio. Grazie a tutti!